non c'è in tempo tanto picca marco tranquillo dove vai con due b possiamo provare se qualcuno viene con metallo occhio mid da destra ecco l'altro c'è chi no mid ok andiamo in b la capriamo sono due in mid quarto short vado il lec sono a loco finestra finestra del b quanto a b da che andrò saranno bella ragazzi complimenti minchia ma tutto voi avete fatto buon planter arriva da per forza io ho portato vittato buona credo complimenti ragazzi se voi volete smoke o flash al disatto ma smoke in city come picca marco quanti allora due b e uno mid quindi potremmo portare andiamo da loco chi viene con me il b di sinistro oh ragazzi aiuto lunghe porte subito eh niente ma non ha bruciato scusate marco scusate prendete il cieco se tu vuole qualcuno vado io c'è il cieco vicino a porte lunghe vado vai matt e piccate da lungo ok ok c'è una granata tu che è piccolo si vittato in site ok guarda qui chi metto sto guardando aspetta ehm si passo il ct ok ti guardo il site non vedo nessuno copri mid chi quando vuoi guarda in tunnel io sul site non vedo nessuno se l'ha nascosto visto vai andata andata passi mid city copri subito city matt oh oh mi ha ucciso mid sulla city porta in attacca porta in attacca lanta lista ah due city buona keepon buona buona bravi asunto così raga Marco pusha salto il mid m'ha preso cecchino cazzo vabbè gioco di croc per adesso 2, 1 è stato Guarda la short, nessuno guarda la short Coprimi un attimo Qualcuno pusha long ragazzi Qualcuno pusha da long Stacco è Stacco il mid Dietro un baghili Dove andiamo? È verso il B il cecco, occhia Marco quando picchi vado Il cecco è in mid ragazzi Sta piccando mid, Remorse È morto il cecco, in B? Ce n'è uno in sight Non ho hittato Finestra, finestra Raga, occhio da city, Remorse Siti, uno city Non da capi, due city Vado io da dietro, spesso, sono là Uno in mille Nooo Stavo cortellando Tranquilli, tranquilli Non vi esaltate Mi fa ridare la crowd No, perché vi esaltate Vai, spagniamo B Picca B, 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 Marco Due B Cecchino sempre che picca mid Pusciamo mid, pusciamo Pusciate i mid insieme Venite B Venite B Venite B Vai, chi è? Un'altra Un'altra B libera B libera Raga, due in sight Due in sight Io Marco Aiuto Uno short Guardate il ct Cazzo Un in sight Marco guarda tam Arriba mid E' stato tentato Ecco L'hai spiato però Tonno che dovrebbe essere ultimo Vabbè appena entro Bravo scout Legge Così bello, così Volendo possiamo rush'ala la prossima round In V No, no, non lasciate No, non facciamo il stesso lanzato Non ho rush'ala male Quindi basta 15 al 6 Uno in tato Sicuramente No il cecchino è in mid ragazzi l'hai visto? c'è una bomba per l'insight è rientrato in B quello c'è una bomba giù fa un buen sight l'ho mattato double kill oh l'ho visto si si bomb planted no sight tira la granata ora sta splantando c'è la bomba? no sta splantando si mamma glad you're with yes baby 9-1 3 assist oddio che lo dici? l'hanno hettato c'è chi lo miste dritto miste centrale quanti B? nooo cazzo mi ha fregato tanto uno short dietro le casse sopra le scale short short si è ben mirato lo fai jo dove era? short dove? sulle casse sulle casse si è andato ok se n'è andato ok raga andate B non vi bugate su short ancora qua sta pushando ragazzi non bloccava cazzo giocare tranquilli abbiamo ancora il check-in push a B non bloccava la scelta non bloccava l'ho il c'è l'ho bravo abbassi bravo Dovevi andare in B con Marco, di chi? Eh, ne avevo due in mid No, ma è troppo tardi, ma... Oh, prova qualcosa, ma... Va bene Stiamo insieme, dai Short è difficile ficare, ragazzi, short sono messi bene Stanno lì in upstop, è quello che dico Proviamo un round in B, eh, sono in due Fermi, non correte Uno è tato, c'è Kino è tato, eh Quanti in B? Due C'è sempre quello azzotappo Arrivano fondo da lì, eh, devi sta attento Mi aiuta un attimo a piccare lì C'è uno mid, Matt Sì, forse due Riettato, uno Fuori la porta di B, il cecchino E c'è Kino Oh, cusciamo tutti, dai B Vado io da sopra che arriva il cecchino E voi cuscate mid Io pure A, ragazzi Attenti, chiede la porta sulle casse Oh, sta mid, raga A destra È uscito con Kedak, sparando Fuori, fuori, porta No Oh, cazzo, con la Glock Zulam win C'è una roba sull'arma La roba sulla Glock, c'è Screen, screen Non l'ho preso ma sto registrando, non è un problema Ok Picca mid, Marco Per favore, guarda Ragazzi, vado in line Ok, picchiamo la short Non posso avanti che io non posso piccare qui Ok, le bombe che hanno una mid Short, l'ho bruciato Ok, bravo Non smiccare, non posso io qui Non ho short in hardscop Attenzione Short in hardscop Eh, perchè ha riuscito una granata Vai mate, andiamo Aspettami la faccia di una Grazie Granata, eh Granata, site Vado, un'altra Spusciamo tutti, vai Lasciami la, lasciami la Marco Mi sto, mi sto, mi sto arrivando Planto Guarda long Ok, va bene Ah, uno CT Short, dai mostro Un enemy left Bomb planted Rimasto chi? Chi è rimasto? Era questo CT? No Ragazzi, short, short, short Legio win Eh, ma quanti assist sta facendo? Vai, vai, tranquillo Rekillarli, cazzo Fanculo gli score, ragazzi Abbiamo solo vinci Vittato Revorso con me Pusha, pusha, pusha Quanti? Due Le bombe in long Gioca la seconda Allo stesso modo Solo beat Mid, short E' morto Pusciamo ulti short Dai, che facile Eh, ma facile Buona Mitato Sight, sight Sto plantando Io lo guardo giù Pronto io, pronto io Vai Sei pronto a quale A posto Legio win Sì Complimenti Vai Usciamo B tutti insieme, così al run Eh no, al prossimo round, ragazzi Vai, 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 vai Ma che c'è la smoke, ragazzi Vai, vai, vai Vai, vai, vai Butta smoke in B Ma non ce l'ho adesso Di cazzi Vai Oh, entriamo, entriamo Entriamo, entriamo Buona Ok Con due armi specifici Si ferma nessuno Gioca è morto, vai Alessato di nuovo Quattro tanner Quattro tanner Due tt Quattro tanner Quattro tanner Guardo io Guardo io Guardo io Guardo io Guardo io Guardo io Noi diciamo B, ok Metto la smoke Al run Al prossimo, significa, beh Metto la Questa ce la giochiamo Eh, mig Attento granate Occhio mig Occhio granate Mig, Marco Non corre A sinistra Mig, sinistra C Cazzo che è solo Cicchino a sinistra Provo granata, Cicchino Andate... Vai log, Marco Sarà a porte di P, Cicchino Non l'ho preso Mi di sinistra Andiamo, andiamo, andiamo tutti Sto più sciamo Sto più sciamo Sto più sciamo Sto più sciamo Ok, lasciamo la Ok, plant In B, Cicchino, a porte B Ok, plantiamo Planta A Planta A per fare Minasco, oddio Ho capito È assalto, non è più Cicchino Vanno a cambiare Ciorto, stai arrivando Toglitevi dal site Mi guarda HP, bravo A posto Vai, c'ho la smoke adesso Ragazzi Vai in B Tutti in B Guarda il mezzo cazzo mi ha messo Puoi scioglio, dai Vai tirare in fondo la smoke Va bene, è meglio che sono io Fai passare, fai mandare prima Kivan Che brutta smoke Nelle porte la smoke Auto site Ma non davanti al tunnel Vai Fatto Che cazzo di smoke è qui? No Qua Non si tira qua Pienza per fuora Mid Uno mid Finestra Fuori 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 Oh Ci abbiamo provato Non rush Guardate Piccate Piccate Non me lo scendo Andiamo Va bene Va Fatto Va Fatto Ficcate Anche io Un po' Occhio a bombe che arrivano da mid Andiamo ancora a remorso Facciamo come prima Ragazzi provate ad andare in pit eh Bongo pulito Mi so Qua sulla sinistra Qua sulla sinistra Qua sulla sinistra Lungo Forse macchina In realtà non c'è nessuno Site site Lo sento Uno site 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 Uno rampo Uno site Uno rampo Uno site Uno rampo Da short Da short Guardate short Guardate short Planto io Lì arriva la bombe Occhio short Short Dai le bombe mi ammazzano qua Morti La post No Provisore Morso Picchiamo di nuovo Picchiamo non lasciamo Scusatemi Pittato Aspettiamo le bombe Aspettate bombe Occhio short Marco Guarda short Vai più Short L'ho fatto malissimo Non è morto Si sarà ritirato di qua No Sto coprendoci Scusatemi Mira Andate long Pusha Uno Trattore 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 Qui dietro Mira Marco Occhio Ah No Triple kill Oh Cazzo Da mid Era qua Qua sotto Chi? Occhio Ma Sarà salito short Forse No? Ma che cazzo è andato? Ma che cazzo è andato? Forse Era mid Arriverà short Buon planter Si tira short Da qua Short DG Bella Mamma mia Ed Short Ragazzi Difesa come ci siamo detto Io mi Io vado long O mid B Marco resta mid Marco vai B Chi vuol mid Chi era short? Remorse short Matt tu Long vado long Vieni long con me Non è Non mai C'è l'arma più veloce Quindi arrivo prima Adesso Mi d'alto Anti Mi d'alto Ragazzi È cato a short Mi bruciano No L'ho limo Eh Rettato Ma C'è 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 Entrato Entrati? le porte niente ok nel mid buon plan fuori le porte non è rimasto lì la chiamata in sete l'ho ucciso con il siti solo che l'altro era box vabbè marco vai vai di aspetto lascio solo matt long e le morse del sciocco va bene uno venga a b e io sono b insieme a lascia la long no era solo una si è girato ma si è girato ma si è girato guarda short non penso che ho intato un altro si arriva si sta arrivando b si è finestra aiuto ecco è entrato la notera buona buona ma sono rimasto con le finestre no era molto nuovissimo manovere guardate questo 3 1 tunnel alto c'è chi marco chi quando va mid con il tunnel ok stai qui dall'inizio in tunnel ok cazzo non me lo aspettavo proprio perché guarda ct guarda ct lui non lasciare qui c'è ct no è morto il ct è tunnel prepara il tunnel qui dietro ok ancora tunnel 20 secondi dai aspettatelo scendo giù valla la short vai da corri corri short passa la short io la short si sta plantando spara non fa lo plantare spara a casa vai è vinto è vinto è vinto posso dai vinta 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 va bene di time va bene così va bene va bene va bene come prima raga matt long remorse short non piccate mi raccomando vorrei marco se no non arriva di time eh lo so tutti due long tre long tutti long due l'ho ucciso sono qui attento faccio girare la pancia nata altro pancia nato altro fatto lento vai sono un giro non t'ho ucciso così quando ti ammazza più ero praticamente con la bomba in mano si si ti ha sparato un caricatore attorno stesse posizioni stesse posizioni cambia posizione ma io mi tiro una bomba stavolta 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 e cazzo luce muore bravo un'altra morto short oh un'altra morto short complimenti un'altra morto un'altra morto un'altra morto due long un'altra morto un'altra morto attenzione sto pushando claudio è dentro le porte è dentro le porte è dentro le porte vai da lì riveri bravo 11 hp 11 hp lungo arriva marco ok legio sarà chiusa comunque dai stesse posizioni per favore matt cambia si si tranquillo mi piazza proprio nel frattore qua tanto prima io anche arrivano a pushar chiamati se ne senti parisi certo raga tunnel passi tunnel raga si si no no non morire è moltissima mi hanno ucciso city mi hanno ucciso city sta entrando non è entrando dg un altro un altro una porta miseria due porte mid uno avrà 10 hp è andato tunnel basso tunnel raga plantà plantà vai da short uno è qui mid dai short si short short è andato short vai tranquillo provaci dai in fondo a sinistra qui vai trattore o long la gioca di time attenta anche qui a sinistra ok questa volta da prende vai vai no non ce la fai no non ce la fai no non ce la fai ma hai tolto pure la colonna non ce la fai ma chi si sta avendo vai vai fan culo ha avuto quel kit defuse porco dio zula fan culo al kit oggi stiamo giocando bene resto mid raga come prima stessa posizione io mi devo sbrigare invece qui non scuro se mi hit adesso ho pure spawnato per long eh fanno i long ragazzi l'ho visto eh si stanno andando long non ci amazzo maia due tre long faccio a shot guarda long qualcuno guarderà dietro guarda shot c'è un baccadoro vaga bomba dov'è club dov'è pizza no ci si quasi tutti i long fin stai spasando nella smoke eh dov'è pizza è cieca no non fare così è cieca no uno fuori al terrezzino e uno ct dov'è ct uno qui e uno ct l'altro è corso sua sicuramente occhio ce l'hai dietro qui aspetta qui tra poco planta su A c'è la bomba? si c'è ok si vanno uno A o uno B forse ok bomba corre dietro grande cattore è andato 50 secondi 50 secondi ma aspetta qui planta A ok vai da qui vai da qui continua da qui occhio che non ti passa lì da per l'ora bomb planted ti va long aspetta che ma si butta stai mirato? eccolo eccolo lì Gigi grande Gino uomo partita Gigi c'è la bomba c'è la bomba Gigi screen ok perfetto faccio io lo screen per lei se lo fai tu vuoi bomb defused bravissimo eh chi fa screen? Gigi la bufa vai ai 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 è 5 ass stacca